Mille firme raccolte in due mesi per chiedere all'amministrazione interventi urgenti per migliorare la viabilità nel tratto di strada nei pressi del cimitero di Avesa. Qui sono in corso infatti i lavori di innalzamento degli argini per la messa in sicurezza del torrente nei pressi del guado in via Camposanto. Ma allo stesso tempo non è prevista la realizzazione di un ponte e carraio che colleghi le due vie. Questo secondo i cittadini di Avesa e zone limitrofe pregiudica di fatto la circolazione causando disagi. Chiediamo che venga messa ripristinata la viabilità di questo tratto mediante un ponte, un ponte che sia carraio perché lì congiunge in una zona dove quella parte in quella zona lì è una zona industriale dove ci sono mezzi medio pesanti che passano, dipendenti che transitano, autobus che portano i ragazzi a scuola da Avesa a Ponte Crencano. È un anello di viabilità molto importante, è sentito. Tutto era cominciato con la bomba d'acqua di settembre 2018 quando l'acqua del torrente era tracimata, da allora i lavori di messa in sicurezza e poi i disagi per la circolazione. Venerdì c'è stato il sopralluogo dell'amministrazione con l'esercito che sta studiando alcune soluzioni. Sia i residenti, sia quelli che lavorano in quella zona lì, sia quelli che transitano lì perché lì vicino ci sono due cimiteri e dove la gente va dai propri cari e quindi non può più passare da lì. Per andare lì ci sono diversi sensi unici, è una viabilità molto contorta e crea un incorpore di traffico non differente. Per andare lì ci sono diversi sensi unici, è una viabilità molto importante.